Le immagini di raggi X al torace e da tomografia computerizzata sono fondamentali per la diagnosi della sindrome respiratoria Covid-19. L'interpretazione di queste immagini è invece complessa anche perché la malattia è nuova. La comunità scientifica da un lato sta definendo linee guida per i radiologi, ma dall'altro propone anche recenti tecniche di intelligenza artificiale per analizzare queste immagini e dare supporto ai radiologi durante la diagnosi. Noi vogliamo mettere a disposizione dei medici queste tecniche recenti e devo dire che loro hanno accettato con entusiasmo questa proposta e stanno collaborando con noi con molto impegno.